Due ore di colloquio a Palazzo Chigi tra Mario Monti e il Presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Il Premier affronta la grana dei costi della politica, dopo la divulgazione sciocca del contestato rapporto della Commissione presieduta da Giovannini, con i dati comparati tra gli stipendi dei parlamentari e degli alti dirigenti pubblici italiani e con quelli europei. Segue nota ufficiale. Il Presidente del Consiglio ha preso atto dei rilievi formulati, di cui il Governo otterrà conto, per le successive determinazioni di propria competenza. Ciò è sembra di poter tradurre per i possibilità gli agli enti di emanazione pubblica, visto che sulle Camere l'esecutivo non ha alcuna competenza. Ma tuttavia l'incontro assomiglia a un assist al Presidente dell'Istat, bersaglio degli attacchi di tanti politici, perché Reo di aver messo in rete, tramite il sito del Ministero della Funzione pubblica, dati sensibili e peraltro incompleti, inutili a scoprire quella media europea, alla cui determinazione il Governo Berlusconi aveva delegato i super esperti. Chiedere a degli statistici di prendere decisioni al posto dei politici è un grande equivoco, si difende Giovannini. Si rimanda a una commissione tecnica che deve calcolare una media tra valori non omogenei e in qualche modo una rinuncia della politica di assumersi le sue responsabilità. Il Ministero della Funzione pubblica rivendica trasparenza e correttezza nella pubblicazione, obbligata per legge, del rapporto Giovannini. Come per i vitalizi tagliati, il Parlamento comunque si prepara più o meno, ptortocollo, ai sacrifici. Entro gennaio i collegi dei questori e poi gli uffici di Presidenza di Camera e Senato faranno le loro proposte, perché se è vero che l'indennità da parlamentare vale solo 5.246 euro netti, sono le voci aggiuntive a fare scandalo. Diaria anche a chi a Roma ci vive con la famiglia, viaggi gratis più 1.331 euro per i trasporti, spese di rappresentanza e per i collaboratori pari a 3.690 euro. Il tutto esentasse, perché considerato rimborso spese e pagato a forfè senza alcun obbligo di presentare ricevute, pezze d'appoggio. Tanto che solo un terzo dei parlamentari ha effettivamente un assistente. Alcuni lo pagano una miseria se non a nero, fino al caso di un collaboratore che racconta di essere stato licenziato dal parlamentare con la motivazione che i soldi gli sarebbero serviti a un certo punto per pagare il mutuo di casa, a spese di noi contribuenti. E tuttavia la rivolta del palazzo contro quello che il Pdlino La Loggia definisce un crescendo di odio, demagogia e antipolitica, continua a montare. Non siamo abusivi né bersaglio da circo, le spese di rappresentanza servono per organizzare gli eventi sul territorio, rivendica Francesco Giro, sempre Pdl. Noa infondate campagne denigratorie si associa al capogruppo Cicchitto. L'alternativa è la delega della politica, una casta di ottimati, insorge Quagliariello. Più produentemente silenzioso oggi il Partito Democratico. L'outsider sindaco di Firenze Renzi è drastico, dimezzare l'indennità e il numero dei parlamentari propone, mentre Di Pietro chiede a Fini di partire con i tagli dalla sospirata abolizione delle province.